Bene amici di telefono.net, Xperia SP sta girando questo video, siamo partiti da una macro quindi dotato di fuoco continuo, pan veloce, eccolo qua, ho attivato la stabilizzazione dell'immagine digitale, qua il controluce, sole palido oggi a Milano, ora mi fermo un attimo, messo a fuoco, provo con lo zoom ovviamente digitale non ottico, video che stiamo girando in full HD da Sony Xperia SP.